Siamo qui a Camogli, stiamo analizzando i dati dello specchio d'acqua antistante punta chiappa. Lo facciamo per presentare la nostra società Oceanis, che è una startup innovativa formata da un team molto professionale con grande esperienza nel mondo dell'analisi dei dati marine. Abbiamo partecipato ad una Call for Innovation promossa dal Blue District, patrocinata dalla Fondazione San Paolo. Abbiamo realizzato una Blue Box, che è un laboratorio portatile, che in navigazione, come stiamo facendo adesso, analizza i dati del mare in punto georeferenziato e nel tempo, li trasferisce sul nostro cloud e li pone all'attenzione di chi vuole analizzare questi dati. Abbiamo lanciato all'interno di questa grande manifestazione promossa da Blue District un sistema che si chiama Adotta un Miglio, di cui vi parlerà Alessandra. Adotta un Miglio è un'iniziativa che vuole coinvolgere in modo attivo scuole, cittadini, sportivi, a chiunque sia a cuore la salvaguardia ambientale. Con Adotta un Miglio chiunque può diventare custode del mare. È semplice, basta andare sul sito, scegliere un'area quadrata di un miglio quadro marino e adottarla. Insieme all'adozione verrà anche rilasciato un certificato come custode del mare. Vi diamo appuntamento all'Innovation Village dal 24 giugno al 2 luglio all'interno della grande manifestazione e nel padiglione dell'Innovation Village.